L'incidente questa mattina, martedì 28 novembre, poco prima delle 10, in Largo Toscana a Torino. Un mezzo dei vigili del fuoco di Torino Ostura stava viaggiando da Corso Potenza verso Corso Regina Margherita, in sirena, per recarsi su un intervento, ma un pensionato a bordo di una forfiesta non si è accorto del sopraggiungere del mezzo dei pompieri. Il vigile del fuoco alla guida, affortunatamente, ha avuto la prontezza di sterzare, ma non ha potuto comunque evitare l'impatto con la vettura, che ha terminato la sua corsa su una iuola contro un albero. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Maria Vittoria per controlli. Certo è che se il vigile del fuoco alla guida non avesse sterzato, il mezzo dei pompieri avrebbe rischiato di ribaltarsi. Grazie a tutti.